Tiene il turismo in terra a retina dove si registra un recupero rispetto all'anno precedente anche se gli effetti della pandemia ancora continuano a farsi sentire. Questo in estrema sintesi quanto emerge dai dati dell'indagine Istat Rilevazione Statistica del Movimento dei Clienti negli esercizi ricettivi pubblicati dalla Regione Toscana relativi all'anno 2021. I primi dati provvisori, spiega Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e di Union Camere, confermano come il settore abbia dimostrato nel corso del 2021 una straordinaria vitalità che però non ha permesso un pieno recupero dei livelli di arrivi e presenze raggiunti nel 2019. Per quanto concerne gli arrivi nella provincia di Arezzo, crescono rispetto al 2020 più della media regionale, più 54,9%. In ogni caso il numero dei turisti si attesta però su livelli ancora inferiori di circa un terzo rispetto al 2019. Andamento similare per le presenze, più 47,1%. Anche il numero dei pernottamenti rimane ampiamente al di sotto dei valori pre-pandemia, meno 22,8%. In merito alle prospettive per il 2022 prosegue, quello che doveva essere l'anno della ripartenza del settore è stato, almeno in questi primi mesi, negativamente condizionato dalla quarta ondata pandemica, dai fortissimi aumenti energetici e soprattutto dal conflitto in corso in Ucraina. Le prossime settimane saranno comunque decisive per capire meglio se sussistono ancora margini di recupero, soprattutto per quanto concerne arrivi e presenze di turisti stranieri. Particolarmente interessanti, conclude Marco Randellini, segretario generale, sono i dati riferiti alla provenienza dei turisti. Al primo posto nella classifica delle presenze per regioni, primi temmercati di riferimento sono Lazio, Lombardia e Toscana. Per quanto riguarda la componente straniera, invece, Germania, Paesi Bassi e Francia, in decisa ripresa il turismo statunitense.